Credo però che sia estremamente grave che non si scinda bene il campo tra politica e magistratura. Il fatto che il governatore della Puglia dica io faccio politica, faccio politico, faccio il governatore e continuo a mantenere la toga, io credo che sia una sovrapposizione di ruoli e di incompatibilità estremamente grave, perché se si rivende, soprattutto in questo momento dove il clima e la conflittualità tra politica e giustizia e tra giustizia, ad esempio tra magistratura e magistratura, all'interno della stessa magistratura, sta toccando soglie altissime di crisi. Io credo che debba essere chiaro un principio, soprattutto per chi ha ambizione di andare al governo, che se si rivendica l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, si deve rivendicare l'autonomia e l'indipendenza della politica rispetto alla magistratura. E credo che sia estremamente grave questa sovrapposizione e questo accavalamento di ruoli, soprattutto nella terzietà dei ruoli e delle funzioni. Quindi questo è un dato che va tenuto in considerazione una visione più complessiva del rapporto tra giustizia e politica. Più cazzo se uno poi torna a fare magistratura...